Ci troviamo nel Palazzo Gattone, naturalmente prende nome di Gattone proprio negli anni più recenti perché era chiamato Palazzo Lannutti. Lannutti che era un studente di giurisprudenza che in guerra morì lasciando a sé una giovane vedova che poi in seconde nozze sposò un capitano. La signora Ilde Lannutti naturalmente aveva un fratello che è conosciuto a livello internazionale come Erminio Troilo, il famoso filosofo della filosofia bianca. Il fratello veniva nelle sere d'estate su questa terrazza insieme all'altro fratello che era Nicola Troilo, direttore della costruzione della translibica e sostando e passando le serate estive e calorose su questa terrazza ebbe a scrivere una bellissima poesia intitolata Cieli di archi che ora andrò a leggere. Allora amici ascoltate questa bellissima poesia che non capita tutti i giorni di ascoltarla e specialmente da una persona accolta come l'architetto che veramente a cui io faccio tanti tanti complimenti perché ha una cultura veramente infinita. Allora la poesia si chiama Cielo di archi. Non ho visto mai cieli stellati così profondi, solenni, meravigliosi. Non ho visto mai una più dolce bellezza delle stelle vibranti attraverso le querce fantastiche di tronchi e di fogliami. E di tanto in tanto dalla notte si leva il canto largo, pieno, fermo dei contadini, magnifico canto di passione, di finezza, di iniziazione che sembra quasi un colloquio del Cielo e della Terra. Su quali parole si muove quel canto? Esse non si intendono, svaniscono via nell'intreccio semplice e sapiente delle voci, sfumano nelle cadenze, negli echi, ma è il canto stesso che parla e dice. Dice l'eternità dell'amore e del dolore, l'infinito della speranza e della bellezza. Professore Erminio Troilo, manoscritto su carta. Allora perché lui scrive questa poesia? Perché effettivamente da questa terrazza si domina tutta la vallata e d'estate quando i mietitori per le giornate di calura rimanevano sui campi fino alla tarda serata, sentiva lui provenire da queste campagne questo canto e lui dice non intendo queste parole perché loro cantavano nel dialetto. Per cui ecco che questa terrazza diventa importante e dà anche il nome poi ad archi, la famosa terrazza sul sangro. Adesso architetto andiamo a vedere qualche altra cosa? Allora ci spostiamo di poco per arrivare a quella che è la famosa torre dell'orologio nata sulle vestigia dell'antica chiesa di Santa Croce. Bene, allora invito tutti gli amici a venire con noi a vedere la torre dell'orologio. Andiamo, andiamo amici. Ci troviamo di fronte a quella che è l'abitazione degli antenati dello scrittore Mario Pomiglio che nello scrivere il quinto evangelio dice che fu trovato qui nello studiolo che poi è rappresentato da quella stanza che dà su quella terrazzina il famoso manoscritto che gli diede la possibilità di scrivere questo famoso quinto evangelio che però tutti sappiamo non esiste, è un apocrifo. Bene, ci troviamo oggi in quella che è la torre civica, torre dell'orologio, ma dobbiamo considerare che ci troviamo in largo Santa Croce. Fino al 1700 documentato dove oggi c'è la torre c'era la famosa chiesa dedicata a Santa Croce, la chiesa di Santa Croce. Non sappiamo se effettivamente la torre dell'orologio nasce dopo la demolizione della chiesa, diciamo che era il vecchio campanile della chiesa, oppure se in sostituzione della chiesa fu realizzata questa torre dell'orologio. Allora la torre dell'orologio subisce una storia un po' strana. Prima del 1800 la base, l'orologio veniva caricato con delle corde, con dei pesi. Un signore che doveva ricaricare la sera l'orologio aveva fatto alla base della torre un deposito di paglia. Nell'andare dentro per caricare l'orologio l'allora, non so se candela, se un lume, cadde, incendiò. Siccome tutta la struttura interna, anche oggi, della torre tutta in legno, prese fuoco e l'orologio implose e crollò. L'amministrazione comunale, cinque anni fa, ha deciso di restaurare la torre. Avevamo queste notizie certe di questo crollo, ma non sapevamo quando era stata ricostruita. Quando siamo arrivati su alla parte terminale della torre, dove c'è il castelletto, il castello della torre campanaria, abbiamo trovato una targa incisa e posizionata sul muro di cinda che dice che è stata recuperata nell'anno domini 1822. Della conferma che effettivamente il campanile era crollato e fu ricostruito. Bene, grazie architetto per queste altre informazioni. Architetto, che ci dice di quest'arco? Allora, l'arco è la realizzazione, la chiusura della seconda cerchia di mura. Abbiamo detto che la prima cerchia di mura si chiudeva con la porta picciola dove c'è la torre dell'orologio. Ci fu una seconda espansione settecentesca e questo che oggi chiamato arco del Palazzo Ceri chiudeva il centro storico nella sera. Se noi ci avviciniamo vediamo ancora che esistono i cardini in cui erano alloggiate le grosse chiusure. Vedete là sopra? Abbiamo sia sopra che sotto gli elementi in cui erano incardinati la porta. Cosa succedeva? Succedeva che nel 1700 c'erano i predoni, c'erano i ladri e il centro storico veniva chiuso e nessuno poteva accedere. E la testimonianza è ancora rappresentata, ecco forse qui ancora si vede bene, lì è stato distrutto e sopra. Trattasi di un arco a sesto acuto rialzato con una pietra finemente decorata e se vedete l'arco si presenta da questo lato che era la parte proprio di accesso al paese. Dall'altra parte invece abbiamo un arco a tutto sesto. Come si diceva il tutto è denominato Palazzo Ceri, poi naturalmente cambia anche denominazione e una porzione di questo palazzo diventa Palazzo Ciarrapico, dell'ultimo proprietario che l'ha abitato. Ci troviamo però di fronte anche ad uno stemma dell'araldica, sopra. Cosa succede? Quali sono gli elementi decorativi di questo stemma? Se vedete nella parte destra abbiamo il Giglio di Francia. Giglio di Francia era l'elemento più nobile che si aveva in araldica e se ne poteva freggiare qualche persona che si era distinta in qualche battaglia. Dall'altro lato invece abbiamo un'altra serie di simboli allegorici. Sono molto belli ed eleganti questi balconi realizzati tipici settecenteschi, perché come si diceva qui c'era stata la seconda cerchia di mura nel 1700, poi vedremo i muri a scarpata su cui poi nel 1700 fu realizzata la residenza oggi Palazzo Ciarrapico. Ci troviamo in Largo Ceri dove esiste questo palazzo settecentesco nato naturalmente sul muro a scarpa, vedete il muro inclinato, della seconda espansione delle mura del centro storico. Attualmente il palazzo è di proprietà di Giacomo Ciarrapico perché l'ha avuto in eredità dal papà che era un ambasciatore, ultimo lavoro svolto è stata nell'ambasciata in Brasile, però un ambasciatore che ha girato un po' tutto il mondo. È un palazzo di una dimensione grandissima, presenta la bellezza di quasi 50 stanze e con un salone. Naturalmente non abbiamo elementi di pregio molto rilevanti perché il palazzo durante la guerra subì dei danni ed è stato restaurato intorno agli anni 70. Però quello che è importante è la sua dimensione e oggi è l'appartenenza di Giacomo Ciarrapico che è un regista, attore e ha girato tutta la serie di Boris visibile su Netflix e ogni anno, anche l'estate scorsa, è stata residenza di tutta una serie di artisti tra cui Pannofino ed altri che lavorano per lui. Naturalmente lui ha intenzione già da quest'anno di cominciare, abbiamo dei locali qui che sono dei fondaci già ripuliti, di farne un centro di corti cinematografici e farne una scuola di cinematografia. Interessante. Bene, quindi possiamo visitare qualcosa all'interno, ma non tutte e 50 stanze chiaramente. No, no, visitiamo solo il salone. No, 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 no. In questo momento dove ci troviamo? Dunque ci troviamo nel salone principale di quella che è l'abitazione della famiglia Ciarrapico. L'ultimo proprietario è stato l'ambasciatore Antonio Ciarrapico e in morte ha lasciato questo edificio al figlio Giacomo Ciarrapico, come si diceva già fuori, regista, attore. L'ultimo suo film è stato ogni maledetto Natale tre anni fa e poi adesso sta girando delle sitcom di Perlarai e naturalmente lui ha girato tutta la serie di Boris visibile su Netflix. La casa, come vedete, ha un aspetto impressionante per la sua dimensione, ma la cosa importante è se noi adesso ci avviamo verso quelle che sono le terrazze da cui è possibile spaziare su tutto il centro storico di Archie. Benissimo, andiamo a vedere le terrazze. Che meraviglia! Facciamo vedere ai nostri amici lo spettacolo che si apre davanti a noi, da questa terrazza, tutto il centro di Archie. Leonardo, la nostra visita sta quasi per volgere al termine, la nostra visita ad Archie. C'è anche un'ultima cosa che dobbiamo vedere, questo che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ce ne spieghi qualcosa? Bene, parliamo dell'ex chiesa di San Giovanni Battista. Nel 1400 anche questa chiesa documentata si presentava a Navata Unica con la classica facciata, detto campanile alla francese, in cui sono ancora visibili le quattro celle campanarie. Cosa succede? Succede che la chiesa da San Giovanni Battista diventa chiesa della Madonna nel 1700 ed è testimoniata da una pala d'altare che era presente in questa chiesa che poi è stata trasferita nell'attuale chiesa parrocchiale Santa Maria dell'Olmo. Intorno alla fine del 1700 in chiesa successe un evento luttuoso, vi fu un omicidio passionale d'amore, la chiesa fu sconsacrata e non è stata mai più riconsacrata. Fu adoperata all'inizio come cinema-teatro, poi alla fine, essendo di proprietà comunale, ultimamente è stata restaurata ed è sede del Consiglio Comunale. Bene, possiamo vedere all'interno? Amici, venite con noi, venite. Ah, bellissima. Oggi naturalmente la sala comunale è stata dedicata a quelli che sono le vittime di Rigopiano. Noi sappiamo che a Rigopiano è morta una ragazza di archi, per cui non potendo la sala essere intestata già direttamente, perché non sono passati dieci anni al nome di Ilaria di Biase, si è preferito dare in maniera generica vittime di Rigopiano e in seguito sala Ilaria di Biase. Come dicevo, questa è una riproduzione della famosa pala d'altare che era presente qui, che però è stata trasferita dopo la sconsacrazione della chiesa nell'attuale chiesa parrocchiale di Santa Maria dell'Ommo. Durante i lavori di restauro che io ho seguito per la parte storica, ho ritrovato questa nicchia e mi ha insospettito, sono andato a misurare, ho visto che coincideva perfettamente con le dimensioni della pala d'altare ed abbiamo fatto una riproduzione che è stata ricollocata qui a testimonianza che era la famosa chiesa della Madonna. Molto bella. Oggi, come si diceva, è sede del Consiglio Comunale di Archie. Ci troviamo proprio davanti alla statua dedicata ai caduti della guerra del 15-18. Ed in questa location io ringrazio l'architetto Leonardo Porreca. Io ringrazio a voi e vi aspetto prossimamente. Torneremo con molto piacere e invitiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo a venire a visitare questo bellissimo paese, ripeto, Archie, provincia Ricchieti, perché veramente ci sono delle caratteristiche particolari che soltanto venendo qui potrete scoprire. Quindi l'invito, venite ad Archie e io intanto grazie. Grazie mille, alla prossima. Grazie a lei architetto, è stato gentilissimo, grazie per la disponibilità e per tutte le informazioni storico-culturali che ci ha fornito. Grazie. Arrivederci. Amici, io come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale. Chiaramente l'invito è rivolto a tutti quelli che non sono iscritti. Iscrivetevi al mio canale per supportarmi nel mio progetto di far conoscere il nostro bellissimo territorio. Io a tutt'oggi ho pubblicato 322 video e ogni fine settimana pubblico un video nuovo. Io vi saluto col mio solito ciao. Ciao, ciao. Sì, ho capito.